Quando l'ho conosciuto avevo 20 anni e avevo avuto fino ad allora solo una relazione, un amore adolescenziale durato 4 anni, che però si era concluso lasciandomi una grande delusione dentro ed estremamente fragile. Essendo stata quella l'unica mia esperienza precedente ho forse ricercato qualcosa che mi facesse dimenticare quel dolore e quella insicurezza e lui incarnava questa possibilità. Nei primi due anni si è dimostrato serio, dolce e premuroso ed io avevo bisogno di quello, di qualcuno che si prendesse cura di me. Era un militare, pensavo dunque che non mi avrebbe mai fatto del male, che mi avrebbe protetto, perché questo era anche il suo ruolo sociale. Ed era quello che cercavo in quel momento della mia giovane vita in cui avevo affrontato problematiche anche alimentari e insicurezze psicologiche. Se ci penso oggi riconosco che poteva essere strano il fatto che uscissimo sempre noi due da soli. È vero che nella fase iniziale di un rapporto si ha bisogno di stare in coppia, ci può essere la voglia di stare più da soli, ma noi non avevamo rapporti di amicizia o frequentazione con nessun altro e questo doveva già suonarmi strano. Lui cominciò a dire che non l'amavo a sufficienza ed io per dimostrargli il contrario sono andata a convivere con lui. Avevo amici ma non potevo vederli, prendere un caffè, frequentarli in alcun modo, perché vedevo che lui si infastidiva, si ingelosiva e poi alla fine litigavamo. Io allora evitavo. Pensavo, sbagliando, che la gelosia fosse uguale all'amore. Ho vissuto un viaggio di nozze d'inferno con lui che mi accusava di farmi guardare o di fare la scema con gli animatori del villaggio vacanze. Io non facevo balli di gruppo, ginnastiche mattutine, non partecipavo a niente per non dare adito alle sue illazioni. Da quel momento ogni volta che si arrabbiava non solo c'erano offese, ma c'erano anche le mani al collo, i capelli che mi venivano tirati, le botte che mi venivano date in testa, così non mi rimanevano i segni e i miei genitori poi non potevano vedere niente. E poi è stata un'escalation. All'esterno si presentava come l'uomo perfetto, il family man, come il marito modello. Mi abbracciava, appariva dolce, premuroso, una facciata che mi faceva pensare che non avrei trovato nessuno che mi avrebbe capito, aiutato e ascoltato. La domanda più frequente e più banale che mi fanno è ma come hai fatto a stare con uno così? Beh, se io avessi avuto la forza psicologica innanzitutto di riconoscere quello che stavo vivendo, di svegliarmi da quello che io definisco un coma vegetativo, mi sarei liberata prima. Oggi invece, in nove mesi di libertà, mi sono resa conto che non esiste solo l'uomo violento. C'è quello che vuole solo avventure, quello che è grande cerca la ragazzina, ma sicuramente non c'è solo l'uomo violento. Questa è la voce di Francesca, una delle donne di Sono ancora viva, che è riuscita a denunciare e dunque ad uscire dalla spirale di violenza. Francesca ci dà degli input molto significativi per quanto riguarda la fenomenologia della violenza di genere. Una violenza che, come avete visto e sentito, è una violenza anche e soprattutto psicologica, che tende per indebolire la persona che ti sta accanto, su cui pratichi la tua violenza. È una violenza innanzitutto psicologica, dicevamo, per annullare il comportamento, l'individualità, il valore della persona stessa e così renderla tua, renderla debole, renderla vulnerabile. E così Francesca si è isolata a sua volta, cioè ha introiettato in sé quello che poteva pensare prima il suo fidanzato e poi il suo compagno, ovvero non avere rapporti più con nessun altro per non dare motivo al compagno di pensare che lei potesse tradire in qualche modo. E quindi annullare la sua rete di amicizia, annullare la sua rete sociale. E dall'altro lato lui che forniva all'esterno, alla società, un'immagine che mai avrebbe potuto far pensare a un atteggiamento violento nelle mura domestiche. Dunque Francesca cosa pensava? Pensava che nessuno l'avrebbe mai potuta aiutare, avrebbe mai potuto credere a quello che lei poteva dire e come sappiamo una delle caratteristiche della violenza di genere è proprio quella della difficoltà, essendo spesso all'interno di mura domestiche, la difficoltà di fornire prove, di fornire una documentazione che possa sostenere la donna stessa. Francesca però poi conclude la sua testimonianza con una constatazione che non esiste solo l'uomo violento, attraverso il percorso affiancato anche dai centri antiviolenza vuol sottolineare che non bisogna generalizzare. Non è che il genere maschile sia violento e il genere femminile sia per forza violato. Ci sono delle persone che sono in grado di commettere questo tipo di violenza, ci sono delle persone che sono a loro volta vittime di violenza, ma è importante riacquisire un proprio valore, una propria autodeterminazione per poter far sì che il valore dell'individuo venga affermato e che si possa essere in grado anche di rinnamorarsi di nuovo, di avere nuove relazioni sentimentali e dunque pensare che sì, esistono questi uomini violenti, vanno riconosciuti, vanno isolati e soprattutto come dice il nostro progetto stesso, mai in silenzio.